Oltre all'immagine sembra un tema fatto apposta per me, perché dico sempre che il primo impatto con il piatto è quello visivo, quindi il piatto deve essere anche bello, ma soprattutto deve essere gustoso e appagante. E soprattutto quando creiamo un piatto dobbiamo stare attenti a come trattiamo i nostri ingredienti, perché quando sono poi offerti dal nostro cliente gli ingredienti devono essere riconoscibili. E questo è un tema sul quale io mi batto, perché purtroppo capita di mangiare qualcosa e non sai quello che mangi, perché è stato trattato talmente in estremo che ha perso le sue caratteristiche e il suo gusto. Questo per me è una cosa molto negativa, quindi io combatto per avere il gusto e a ogni materia il proprio gusto. Grazie per la visione!